Salve amici eccoci alla seconda puntata con i nostri due amici il professor Valterno Cito e Gioacchino Musumeci che andiamo di nuovo a salutare. Buonasera amici. Buonasera. Buonasera. Gli argomenti che vi propongo uno è molto molto rilevante perché se ne parla tutti i giorni ma a mio modesto avviso a sproposito e l'altro è un problema che apparentemente è stato quasi uno spot nei mesi e negli anni scorsi adesso è diventato un problema serio quello dei cinghiali che proliferano dappertutto. Partirei subito col permesso di Gioacchino col professor Nocito a parlare di reddito di cittadinanza perché reddito di cittadinanza Valter? Io sento dire delle castronerie esagerate quando si radunano i politici che tra l'altro guadagnano decine di migliaia di euro al mese quando c'è quel imprenditore che dice offro duemila euro e non trovo personale poi vai a vedere e questo voleva dare cinquecento euro no? Oppure duemila euro lordi di cui poi ti do mille e tre nella busta ma mi riconsegni cinquecento euro e non mi sto inventando niente probabilmente è la base della legge che è sbagliata se qualcuno vuole stare come si dice sul divano o è sempre colpa di tutto il meccanismo? Allora questa legge sul reddito di cittadinanza l'abbiamo approfondita l'abbiamo anche sponsorizzata, giustificata e se avessi avuto la possibilità l'avrei anche votata la legge 26 in Parlamento, nasceva su un decreto legge con qualche errore la legge si perfeziona e però l'attuazione di questa legge ha subito il contraccolpo di regioni italiane che non hanno voluto veramente applicarla e quindi rallentamenti e anche manomissioni i comuni, l'ultima ruota del carro, si sono trovati l'applicazione di una legge in cui lo Stato-Governo e le regioni non avevano idee chiarissime sui tempi e sui modi non avevano neanche le informazioni sulle cifre il famoso professore dell'università di Bari che era andato poi in America ed è ritornato come presidente dell'ANPAL non ha fatto quello che doveva fare cioè quella app che metteva a sistema i numeri e quindi sui numeri si è navigato a vista ricordiamoci che un anno e mezzo di pandemia hanno praticamente impedito la piena volontà di trovare un lavoro di offrire un lavoro e di applicare quella legge e sono caduti nel scorsoio di una tagliola pericolosissima per loro i famosi navigator i quali adesso sono scaduti, vanno in proroga ma hanno sul groppone senza essere colpevoli l'inattuazione di una legge che loro dovevano contribuire a realizzare ma il governo a un certo punto si pente di quello che aveva deciso sui navigator e invece di dominarli oltre 12.000 ne ha dominati con concorso tra l'altro fatto seriamente io ho assistito a ragazzi che l'hanno superato a meno di 2.500 quindi i navigator sono stati una barzelletta per come il governo italiano li ha gestiti e li sta gestendo venuto al pettine il problema della filiera istituzionale e dei lavoratori che sono poi attualmente i lavoratori dei centri regionali per l'impiego che si sono presi i centri provinciali per l'impiego e quindi adesso lavorano sul piano dell'attuazione del reddito di cittadinanza i dipendenti regionali e i dipendenti comunali ma questi e questi lavorano poco su il cosiddetto politiche di attivazione al lavoro non ci dobbiamo dimenticare ma poi la finisco perché se no andremo nel tecnico che la legge 26 aveva due canali di cui si ignoravano le cifre di beneficiari il canale dell'assistenza per il quale si parlava di un sussidio alla povertà assoluta e quindi al povero incapace di lavorare e dall'altro un sussidio a chi non era poverissimo non era un assoluto povero ma era un temporaneo disoccupato con un potenziale e quindi abile a lavorare quindi un escluso dal mercato ma che voleva lavorare e quindi prendeva il reddito di cittadinanza con un contratto di avviamento che non è il contratto di povertà due canali giuridicamente distingi ebbene noi pensavamo gli osservatori che un terzo fossero gli assoluti poveri e due terzi fossero gli attivabili in una proporzione quindi che riguardava 3-4 milioni di persone e invece abbiamo scoperto che i poveri assoluti erano il due terzi e un terzo era attivabile il terzo attivabile non è stato attivato durante la pandemia e dopo la pandemia le regioni sono state gravemente inadempienti con l'aggravante dei comuni che non sanno attivare i PUC i progetti di utilità e che quindi non sanno sfruttare ogni comune centinaia e centinaia di percettori del reddito che si sono buttati sul classico divano che il Corriere della Sera da due anni ci ricorda il mitico divano del Corriere della Sera che non è Gianni Riotta ma il divano del percettore del reddito l'inatempimento c'è nella legge io direi che la legge era completa bancava il ciclo amministrativo le politiche degli assessorati regionali a doverla attuare e la competenza degli uffici dei job center con ANPAL che è l'agenzia nazionale e nella quale cari amici il ministro del PD e il ministro dei 5 Stelle non hanno saputo fare i ministri del lavoro e dell'attivazione al lavoro cioè si sono concentrati forse per carenza di tempo a risolvere le crisi aziendali quelli che erano i licenziati nelle crisi ma non i disoccupati strutturali e i giovani poi anche l'età media si pensava che ci fossero tanti giovani sul divano che volevano stare sul divano non ci sono i giovani sul divano c'è gente di 45, 55 anche 60 anni che prende questo perché è povera quindi una misura di attivazione è diventata un sussidio alla povertà stiamo nell'ambito della legge? sì perché questa qua è stata una legge voluta anche per attuare la carta di Nizza sui diritti della cittadinanza europea i diritti del cittadino europeo prevedono il superamento delle politiche con politiche della povertà e della povertà assoluta questa legge ha raggiunto l'obiettivo il povero ministro Di Maio sopravvalutato all'inizio e ora sottovalutato l'aveva detto abbiamo sconfitto la povertà aveva ragione solo che non ha capito come e dopo tre anni il ministro Di Maio si è pentito di quello che ha fatto perché ha votato una misura per la quale qualunque proposta privata a prescindere dall'intermediazione delle regioni che non sanno fare il loro mestiere fa decadere dal diritto a percepire l'indennità o il beneficio ci sono problemi delicatissimi un giurista fine sarebbe distinguervi tra la condizionalità e il reddito incondizionato noi siamo nella condizionalità ma anche il come si è gestita la condizionalità ha creato questo problema e abbiamo che i principali nemici del reddito di cittadinanza cioè quelli del PD legati a Renzi oppure il partito di Renzi e quindi Forza Italia sono quelli che hanno affossato il reddito di cittadinanza perché governano le regioni tramite i loro assessorati 5 Stelle non è nelle regioni ha un unico assessore in Lazio ma non si occupa di reddito di cittadinanza è la famosa assessora alla transizione ecologica della giunta presieduta dal noto fratello dell'attore mi pare si chiama Zingaretti famoso per aver detto rinuncio a fare il segretario del PD perché è un partito feudale in ogni regione quindi noi abbiamo avuto questa situazione da questa situazione non ne usciremo col governo Draghi io non avrei dubbi il governo Draghi europeo fino a che si tratta di guardare la Nato o la Turchia quando si tratta di guardare Bruxelles Anversa Amsterdam e Stoccolma come politiche di attivazione job center e anche mano dura sul disoccupato mano dura vuol dire controllo Draghi non è europeo è americano e l'americano dice il disoccupato se la sbriga da solo non diamo politiche di attivazione al lavoro per il welfare americano che nega l'attivazione al lavoro come nega la sanità cioè i due fondamentali diritti sociali di uno stato sociale di diritto l'ho fatta lunga ma ho cercato di spiegare un problema che è lungo e prevede quattro anni di polemiche e noi l'abbiamo seguita caro Umberto è vero ecco proprio tu prima parlavi del Corriere della Sera è il famoso divano non ho mai capito che colore è questo divano perché chissà chi l'ha costruito costruisco l'immaginario di uno che sta 24 ore al divano quindi è sporco non è pulito come quello delle vetrine di via Monte Napoleone ecco però io vengo da una città una metropoli molto complicata come Napoli Gioacchino vive a Roma un'altra un'altra realtà molto complicata diciamo che scusate la mia ignoranza ma io faccio un calcolo se un ragazzo che ha superato i 18 anni e vive da solo quanto gli possono dare 500 550 e questo pur comprando solo le sigarette pagando magari un minimo d'affitto probabilmente a fine mese non ce la fa di conseguenza avrebbe bisogno di un lavoro e se proprio questi ce la fa e magari non vuole un lavoro è perché forse la legge è sbagliata attenzione professore è vero mi rivolgo a Walter e scusami Gioacchino è vero che se un disoccupato che prende il reddito di cittadinanza un giovanotto va a lavorare per due tre mesi con un'azienda magari stipendiato bene tutto quanto poi non rientra nel discorso di reddito di cittadinanza dovrebbe aspettare magari l'anno successivo e quello che ha percepito l'anno precedente gli va sul reddito quindi paradossalmente se proprio vienisse accettato magari gli scalerebbero anche qualche centinaio di euro giusto? La realtà è questa tu l'hai dipinta e purtroppo lo sanno anche i poveri cristi di Vico Saritao di diciamo Centocelle a Roma ma anche di quartiere Murazzi di Torino tutte le periferie conosco alla mena dito questa situazione anzi più sono poveri più sono informati di queste materie se parli con i dottori o i primari ospedalieri non la conoscono la materia qual è il punto? Che questa legge serviva a due obiettivi di macroeconomia alzare il livello medio dei salari perché è basso nelle aziende italiane e anche nel pubblico impiego italiano e quindi alzare la sticella dell'aspettativa del lavoratore medio e non c'è riuscito e l'altro era impedire il lavoratore stagionale nella soluzione alternativa di altri canali di assunzione qual è stato il paradosso? Che noi avevamo il sistema di voucher per tutti i governi berlusconi abusato straabusato ma che dava beneficio a alcune famiglie e alcuni giovani hanno chiuso il voucher e hanno attivato stesso governo il reddito di cittadinanza anche per i giovani poi c'è un problema che molti giovani per tre mesi di lavoro estivo primaverile o anche quattro mesi non rinunciano ai nove mesi ai otto mesi e quindi il lavoro stagionale non ha più la massa l'esercito industriale di riserva lo chiamava l'uovo con la barba italiano è calato l'esercito industriale di riserva dei europei poveri dei rumeni dei moldavi della ucraina perché c'è stato il fenomeno dal 2019 che conosciamo tra l'altro i polacchi sono tutti rientrati prima perché la Polonia ha avuto il boom economico negli anni dal 2011 in poi il lavoro stagionale paradossalmente servirebbe con una nuova legge che non c'è e con garanzie di procedura e anche di normazione di retribuzione che adesso non ci sono e il lavoro stagionale sta creando i problemi dei mille breatori che in ogni comune sostengono non trovo il garzone di bottega e non trovo il barista perché sono lavori stagionali su quelli andava mantenuto il voucher di Berlusconi voluto fino a Renzi e poi superato con Renzi il voucher era quel prodotto di 10 euro che valeva un'ora di lavoro che era ben pagata puramente precaria puramente schiavistica se vuoi job on the call ma era sostanziale era pagamento adesso quel lavoro temporaneo quel lavoro a chiamata quel lavoro stagionale per un mese o anche due mesi i giovani lo rifiutano questo è il paradosso italiano neanche gli africani vogliono fare il lavoro degli italiani ex sfruttati purtroppo ho dovuto spiegare una realtà brutta ma questa è la realtà italiana insomma di cui si parla in tutti i bar da Trento a Siracusa ogni mattina a tutte le ore se frequentate i bar insomma adesso sentiamo proprio una realtà che arriva da una metropoli Gioacchino tu che vivi tutti i giorni tu non vivi in un quartiere d'elite lo accennavo prima no non diciamo quale per carità però come puoi dire anche quale non c'è problema dillo tu che è meglio Torbe la monaca ecco è una scelta di vita è una scelta di vita ti posso garantire certo ma io che ti conosco lo so ne abbiamo parlato tante volte e secondo me hai fatto una cosa splendida però in questo quartiere ripeto non ci sono tanti ricchi non si vedono tante Ferrari o Super SUV no c'è anche quel poveretto che cerca di di rabbattare qualche euro per portarlo a casa e volevo domandarti sempre con la mia ironia non è che qualche ragazzo che prima andava a rubacchiare per comprarsi qualcosa adesso con reddito di cittadinanza almeno abbiamo qualche ladro in meno nel nella realtà non nella realtà di Torbe la monaca dove ci sono le Ferrari è come se ci sono soltanto che sono hanno una spiegazione diversa c'è un mercato parallelo che Torbe la monaca è un polo della 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 droga che cioè non ne parliamo proprio c'è un sistema di spaccio che è miliardario ma tornando al discorso del reddito qui ci sono anche i poveri quelli io parlo della povertà della disperazione quella vera non parlo è un tipo di disperazione che se non l'avete non hai idea che esista una delle cose che veramente ti ti colpisce è che c'è una una fascia di popolazione veramente povera che deve campare di 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 espedienti anche se prende i redditi di cittadinanza perché parliamoci chiaro cioè 550 euro è inutile volerci girare intorno non fai nulla guarda io ho diversi clienti vista l'attività che svolgo che possono pagare eh con la carta del reddito di cittadinanza perché il mio lavoro è vicino a quello eh sono ausili medici quindi eh i percettori di reddito di cittadinanza possono usare la carta e c'è una grande percentuale di utenti di percettori che può raggiungere diciamo che può raggiungere il mio prodotto attraverso la carta prodotto che non potrebbero nonostante le promozioni che posso fare io su misura per questa fascia di popolazione comunque non non sono in grado di 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 fare granché anche in considerazione del fatto che reddito di cittadinanza o meno le bollette della luce del gas devi pagarle e coi tempi che corrono il reddito serve al pagare le bollette per il resto questa gente come diceva il professore siamo nell'ambito del ti devi arrangiare eh un po' in contrasto con 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 il principio del diritto alla vita dignitosa che prevedrebbe la la nostra costituzione siamo sempre lì ma se tu hai un governo che eh ratifica norme progettate per combattere la povertà e poi è organizzato quasi per combattere queste stesse norme io la vedo molto dura non mi sembriamo molto non ho la percezione di 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 un'organizzazione efficiente poi alla fine il risultato è che arriva Giorgia Meloni e dice che ci sono i ragazzi sul divano che ci sono ma se tu non hai una politica del lavoro se non offri un'alternativa proprio concreta questo facevamo il discorso dei voucher che sono stati cancellati cioè la sintesi è che secondo me è la politica cioè è la solita roba italiana dove tu magari hai un'idea anche buona ma non sei in grado di concretizzarla per problemi di imbecillocrazia da una parte e per problemi di eh proprio di inadempienze normative che sono intrinseche a come concepisci la legge però la legge si può migliorare se poi invece non la migliori oppure fai ci sono proprio dei vuoti normativi o dei vuoti organizzativi il risultato è quello che è poi alla fine hai che è lo stesso eh avvocato della legge che era il ministro il cosiddetto ministro Di Maio viene segnalato dal ministro del lavoro Orlando che ha detto pubblicamente che Di Maio è diventato il principale avversario del reddito di cittadinanza quando tu hai un'organizzazione politica che si riduce a quest'immondizia perché è immondizia che cosa ti devo dire ti dico solo che secondo me il reddito di cittadinanza è destinato a morire perché il Movimento 5 Stelle non ha numeri per difendere la norma che ha concepito questo perché una parte del movimento è quella che Italia com'è com'è il partito di Di Maio insieme per il futuro che mi fa solo ridere cioè insieme per il futuro ma quale futuro io voglio capire che futuro prospetta Luigi Di Maio che è l'icona del travestimento politico appunto ma ti sto dicendo quando parla Luigi Di Maio che al di là di quella che può essere la sua preparazione personale la sua preparazione politica e il delirio dei congiuntivi e periodi ipotetici tutti sbagliati che lasciamo perdere stendiamo proprio un velo pietoso su questo il ministro degli esteri che è in quelle condizioni e vabbè evidentemente è messo lì per cosa però tornando indietro cioè Luigi Di Maio faceva il ministro anche nel governo Conte ma io uno così non gli faccio fare il ministro era vice premier Luigi Di Maio capisci? quindi si è partiti secondo me male io sono sempre stato un simpatizzante del movimento però cioè non c'era una classe dirigente nel movimento 5 stelle non c'era e soprattutto l'idea cardine del movimento 5 stelle è entrata in crisi all'interno del movimento stesso ma secondo te che cosa vuol dire? vuol dire che è un'idea un po' come dire volatile cioè chimicamente è una roba proprio volatile che non ha attecchito come doveva attecchire ecco il reddito di cittadinanza Gioacchino hai detto due frasi tra l'altro tra un attimo mi allaccerò come dicevo qualche settimana fa con Walter forse di Battista ha capito in tempo di frenare il suo entusiasmo per questa compagine perché non si fidava alla linea di partenza dei suoi colleghi no? è riuscito a starne fuori e comunque porta avanti una linea dignitosa quella che era la sua idea qualche anno fa continua e io l'ho visto combattere su più fronti e io è un'altra che è un'altra che è un'altra